Rimaniamo a Pescara, i militari della Guardia di Finanza hanno arrestato nel fine settimana un giovane spacciatore, questo grazie al fiuto di Esco, lo vedete in queste immagini, il cane pastore tedesco impiegato durante il quotidiano pattugliamento dei baschi verdi, sequestrati anche centinaia di grammi di hashish del valore di diverse migliaia di euro. L'uomo è stato fermato a Pescara, come si diceva nei pressi della via Tiburtina, mentre era a bordo della sua autovettura con un'altra persona. I militari, ispezionando il veicolo e gli occupanti, hanno scoperto centinaia di grammi di hashish occultati dal pusher nella tasca dei pantaloni. È stata anche eseguita la successiva perquisizione nell'abitazione dello spacciatore dove è stata rinvenuta altra droga. Lo spacciatore è stato quindi posto agli arresti domiciliari per il reato di traffico di sostanze stupefacenti ed è stato condannato per direttissima a otto mesi di reclusione.